I carabinieri della compagnia di Locri, grazie anche all'apporto dato dallo squadrone eliportato cacciatore di Calabria e dall'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valencia, hanno individuato e smantellato una piantagione di canapa indiana composta da oltre 500 piante con inflorescenze dell'altezza variabile tra i 60 e gli 80 centimetri, nascoste con cura all'interno di un fondo agricolo situato nel comune di Benestare. Inoltre hanno arrestato un uomo che si ritiene sia responsabile della coltivazione, in quanto è stato sorpreso mentre la stava accudendo. La conformazione geografica del territorio con aree montuose e difficilmente accessibili ha da sempre favorito lo sviluppo di piantagioni illegali di canapa indiana, il cui ritrovamento da parte delle forze dell'ordine è quasi settimanale, soprattutto in questo periodo. Infatti la canapa germina in primavera e fiorisce in estate inoltrata, quando le ore di luce diminuiscono e quest'anno, almeno in Calabria, l'estate si è protratta fino ai primi di ottobre. Le piante e le attrezzature necessarie alla coltivazione e al confezionamento della sostanza, compreso un impianto di irrigazione, sono state tutte distrutte, mentre l'uomo è stato condotto in carcere in attesa della convalida del fermo.